ciao a tutti allora oggi si scrive una canzone ho iniziato ho accordato la chitarra diversamente come su kashmir dei Led Zeppelin che sto cercando di imparare e così mi è venuta molta voglia di scrivere una canzone la canzone si chiama salvami non so se è finita così fatemi sapere cosa ne pensate salvami a questa mia prigione solo una canzone salvami a questa penitenza sentuto in questa stanza ormai da tempo vuole andare via e ancora salvami a questa perepotenza fa freddo e non mi basta la coperta che hai lasciato e già volata via ma l'anima va sulle notte o su una scea verso dopo verso contro vento e senza corda ma l'anima va sulle notte o su una rima che verso dopo verso sicuramente senza corda salvami a questa mia prigione salvami a questa mia prigione ho solo una canzone per, 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 per dirtelo e allora salvami a questa penitenza e allora salvami da questa penitenza seduto in questa stanza ormai da San Buon non vuole andare via non vuole andare via e ancora salvami da questa perepotenza fa freddo e non mi basta la coperta che hai lasciato è già volata via ma l'anima va sulle notte o su una rima e verso dopo verso senza tempo senza corda siamo già arrivati in cima siamo già arrivati in cima ma l'anima va sulle notte o su una rima ma l'anima va sulle notte o su una rima e verso dopo verso senza corda e contro vento siamo già arrivati in cima 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 vo수! grazie grazie grazie